Ciao Addicted! Oggi siamo in compagnia di Lizopharma, che è un'azienda nata nel 1965 da una collaborazione fra farmacisti ed erboristi lombardi e la svizzera Biostrat AG. L'azienda introdusse sul mercato il concetto pionieristico del naturale importando e producendo prodotti esclusivamente naturali, quindi abbiamo integratori, cosmetici, fitoterapici e prodotti erboristici. La sede attualmente è in Brianza, immersa nel verde della natura. Lizopharma produce e propone unicamente prodotti naturali garantiti e supportati da continue analisi di riscontro che ne attestano l'efficacia e i risultati ottimi su campioni di consumatori. Il loro motto è quello di selezionare utilizzare materie prime certificate e naturali evitando i conservanti e le sostanze di sintesi. Tutti i loro prodotti vengono controllati e analizzati con le migliori tecniche di laboratorio e la sicurezza dei loro prodotti è certificata dai controlli delle caratteristiche chimico-fisiche micro-biologiche dalla ricerca di allergeni come il lattosio e il glutine sul prodotto finito. Quindi vuol dire che sono integratori che possono andare bene anche per chi ha delle intolleranze. Allora noi abbiamo qui alcuni campioni di questa azienda che vi faccio vedere. Innanzitutto abbiamo due campioni di Strat Vitality che sono appunto un supplemento alimentare arricchito con magnesio naturale. Sono due bustine, all'interno c'è appunto sento delle pastiglie e dice che gli adulti appunto devono assumere due o tre volte al giorno due compresse prima dei passi con acqua. Il magnesio di Strat Vitality contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alla normale funzione muscolare. Quindi se avete diciamo soffrite per esempio l'estate di un maggiore dispendio di magnesio e potassio oppure comunque volete integrare questo minerale che è importantissimo per il corretto funzionamento del sistema neurovegetativo potete provare questi integratori di lisofan biostrat. Poi abbiamo ancora qui un fitovit mg, sempre magnesio marino in questo caso, che non contiene OGM, glutine coloranti o conservanti di sintesi adatto a vegetariani in quanto è vegan. Può essere utile appunto nel diminuito sempre apporto con la dieta di magnesio oppure appunto di un fabbisogno maggiore. Se vivete un periodo di stress e di nervosismo, la sindrome premestruale, crampi muscolari eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è anche questa magnesio marino, la confezione da 30 tavolette da 900 mg. Vi dico brevemente in cosa consiste il magnesio marino che è ottenuto dall'acqua di mare mediante un'accurata tecnica estrattiva per evaporazione e successiva micronizzazione. Se ne assumono una o due tavolette al giorno durante i pasti con una sorso d'acqua e il magnesio. Quindi è ciò al cui viene data particolare importanza. Poi andiamo alla circolazione con il freevan per combattere i problemi di cambe pesanti di cellulite che favorisce il microcircolo ma anche l'iperidrosi, cioè è utile in caso di iperidrosi, quando si ha la stasi venosa ed anche emorroidaria e durante viaggi aerei. Se ne prende una al giorno a stomaco pieno e non contiene latte, lattosio e derivati, OCM e glutine. Quindi questo è un altro prodotto di questa azienda. Poi appunto come vi dicevo ci hanno mandato il materiale informativo dello Strat Vitality ma anche dello Strat Immun, cioè lo zinco, zinco e magnesio, tutti minerali fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Faccio vedere altri esempi di ciò che fanno, Fitbit Lady, trifoglio rosso, soia e con betaglucani per coido di uvare durante i disturbi della menopausa. Oppure ancora Synergy Call, le compresse, 30 compresse a 900 mg, sempre prive di OGM, lattosio, glutine, eccetera eccetera, e che sostiene appunto il funzionamento fisiologico delle cartilagini. Quindi se avete dei problemi di questo tipo oppure ancora se avete per esempio avuto un incidente, avete avuto un'operazione alle gambe eccetera eccetera, per mantenere il collagene ben vivo delle cartilagini, questi sono prodotti utili. Poi ancora abbiamo tutto il catalogo logicamente dei loro prodotti che potete andare a vedere sul loro sito www.lizofarm.it. Abbiamo anche le gocce BioCalm per favorire il sonno, il relax e ridurre lo stress con valeriana, passiflora ed estratto idroalcolico di plasmosilato Strat. Quindi questo è un rimedio naturale per chi ha problemi ad addormentarsi e così via. Qui ci sono ancora tutti i prodotti riepilogati che sono veramente tantissimi che vengono fatti da questa azienda appunto con lo scopo di fare bene con diciamo con il vantaggio di non utilizzare sostanze se non sostanze naturali. Qui ci sono anche tutti quanti gli studi fatti da questa azienda che utilizza i suoi integratori per vari scopi, quindi anche per quanto riguarda la convalescenza, la chemioterapia, il sistema immunitario, il disturbo dell'attenzione e la geriatria nel senso appunto si occupa dei pazienti anche pre-Alzheimer purtroppo è in situazione appunto pre-geriatrica. Quindi ricapitoliamo, fanno tantissimi prodotti come vi ho detto tutti quanti naturali, se volete provarli, volete anche sentirli potete trovarli sul loro sito lizopharm.it oppure contattarli a info-lizopharm.it, li trovate anche su facebook, la loro pagina è lizopharm bio-strat scritto s-t-r-a-t-h Italia. Io vi ringrazio, continuate a seguirci su Box Addicted, ringrazio lizopharm bio-strat, alla prossima e ciao!